buongiorno ragazzi qua siamo da corleone ragazzi parte tutte le foto che ho fatto questo per farvi vedere ragazzi che sto sulla tomba di bernardo provenzano grande bernardo provenzano e guardate la data di oggi 13 luglio 2016 è morto 13 luglio 2022 io sono qua da lui un onore venire a trovare questi questi uomini così grandi ragazzi che per lo stato può darsi che non servono ma per me rimangono sempre grandi uomini sempre questo è parlato provenzano vogliamo anche la grande totorida poi sta ritornando da provenzano adesso facendo io la diretta ma per raggiunto va poi va che ti seguo ciao 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 Sì, 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 Sì... ...sò l'amico! Vai vai! ... ... ... dai ragazzi vi saluto ragazzi qua da Corleone vi saluto io, mia moglie e tutti i miei amici